Circa 186 euro a famiglia, questa la stima degli uffici di Confcommercio che prova a delineare una previsione sull'andamento dei saldi estivi che in tutta la Toscana inizieranno sabato 2 luglio. Abbiamo buone attese, commenta Paolo Mantovani, presidente regionale della Federazione Moda Italia Confcommercio Toscana. Il caldo di questi giorni e il ritorno alla normalità pre-pandemia dovrebbero spingere in alto gli acquisti, ma pesa l'incognita sulla propensione di spesa delle famiglie spaventate dal caro bollette e dallo spettro dei nuovi aumenti delle materie prime in autunno. Lo scontrino medio prosegue e sarà forse un po' più alto dello scorso anno, quando è stato di circa 78 euro a persona, perché si sono moltiplicate le occasioni di incontro e di socialità che invitano dunque a rinnovare il proprio guardaroba. Resteremo però ancora lontani dalle 230 euro a famiglia dell'estate 2019, l'ultima pre-pandemia. L'ipotesi dell'ufficio studio di Confcommercio per la provincia aretina è quella di un volume d'affari complessivo di oltre 16 milioni di euro, visto che solo 6 famiglie su 10 acquisteranno in saldo. A questo dato poi andrà giunta la spesa dei turisti. Confcommercio Toscana invita però alla cautela, la moda viene già da anni difficili segnati dal calo dei consumi e nonostante tutto è uno dei pochi settori dove in questi mesi non ci sono stati aumenti. I commercianti hanno cercato di dire agger botta senza ritoccare i cartellini, ma ovviamente hanno visto scendere i loro ricavi e i saldi da soli non possono fare miracoli per ripianare i bilanci. Le vendite di fine stagione, che dureranno 60 giorni, in provincia di Arezzo interessano circa 800 imprese commerciali di abbigliamento, tessuti, calzature, pelletteria ed articoli sportivi sia in sede fissa che ambulante.